Da circa 10 anni le forme di distribuzione alternativa rispetto a quella tradizionale che era dicotomica o solo ospedale o solo farmacia aperta al pubblico hanno preso un grande spazio in Italia. Su questi temi la dottoressa Di Ture ha tenuto un'interessante relazione al congresso della Sifo e quindi ci facciamo raccontare i risultati della sua analisi. Dottoressa Di Turi, lei ha presentato i risultati di un'indagine che la Sifo ha coordinato, ce ne parla? Sì, innanzitutto devo precisare che l'indagine riguarda soltanto un piccolo campione di servizi farmaceutici che sono presenti sul territorio nazionale, quindi non è sicuramente un'indagine completa ma è da considerarsi una fase preliminare di quella che è un'indagine che in maniera auspicabile pensiamo di poter estendere a quasi tutti i servizi farmaceutici territoriali e ospedalieri che lavorano, che operano su tutto il territorio nazionale. Per l'intanto l'indagine ha confermato quello che era un dato di tendenza, quindi noto, risaputo, che i sistemi distributivi nazionali realizzati, che a livello diciamo locale sono stati realizzati nel rispetto della normativa nazionale, mostrano appunto un quadro molto variegato, quindi ci sono ASL e realtà nelle quali prevale e predomina la distribuzione diretta, in altre invece la distribuzione diretta è di livello superiore o uguale alla distribuzione in nome per conto, in altre realtà invece quasi non esiste alcuna forma di distribuzione alternativa al sistema convenzionale. Ovviamente ci sono vantaggi e svantaggi in tutti i sistemi perché la convenzionale ha vantaggi notici, quello di avere una capillarità assolutamente utile per ciò che concerne il singolo cittadino, invece la distribuzione diretta naturalmente vanta vantaggi soprattutto di natura economica ma naturalmente ha poli distributivi che sono molto contenuti rispetto alle esigenze di una popolazione così vasta e così eterogenea sparsa su tutto il territorio nazionale o regionale di interesse. Ecco, le chiedo di fare un piccolo passo indietro, come avete fatto l'indagine? Allora l'indagine è stata realizzata attraverso la compilazione di un questionario online che era stato reso disponibile sul sito della Sifo, quindi per i colleghi era facile accedere perché bastava collegarsi con il sito della Sifo e quindi cercare la sezione dedicata. Naturalmente una volta fatto il collegamento al singolo collega non restava altro che compilare una sezione dedicata ai propri dati anagrafici e di riferimento della struttura nella quale lavorava e quindi rispondere ad alcune semplici domande che riguardavano prevalentemente una decina di domini che davano la possibilità appunto di analizzare, che ci hanno dato la possibilità di analizzare poi i risultati e ricavarne alcune deduzioni che sono sotto gli occhi di tutti, sono state illustrate che sono praticamente di una realtà molto variegata. Ecco, ci può dare qualche informazione in più sui risultati dell'indagine? Allora, intanto l'unico campo che si è dimostrato molto uniforme, abbastanza uniforme e che comunque è stato considerato un risultato di importanza rilevante è che lì dove esistono degli accordi con la medicina generale e la pediatria di libera scelta sicuramente si ottengono risultati migliori in termini di contenimento della spesa farmaceutica e credo che questo sia un risultato assolutamente importante. In seconda battuta poi è emerso che ancora proprio da queste risposte relativamente agli accordi con la medicina generale ha conferma che quasi l'80% dei servizi farmaceutici che hanno risposto positivamente alla nostra domanda se esistessero o meno accordi con la medicina generale, effettivamente sono in presenza di una spesa farmaceutica convenzionata molto contenuta, molto ridotta, quindi questo dimostra appunto che gli accordi sono come dire produttivi. Il secondo aspetto invece riguarda gli assetti organizzativi delle diverse ASL, lì dove evidentemente l'organizzazione è da un punto di vista qualitativo in riferimento ai principi attivi che sono dispensati e anche quantitativo molto diversa, molto variegata. Come abbiamo visto dall'analisi non c'è soltanto una differenza interregionale molto elevata ma ci sono anche differenze infraregionali nelle quali praticamente emerge come l'ambito organizzativo risenta di troppi fattori locali che naturalmente rendono l'equità di accesso alle cure da parte di tutti i pazienti italiani evidentemente una mera chimera. Ecco per concludere quali sono i messaggi chiave che secondo lei emergono da questa ricerca? Allora i messaggi sono parecchi però quelli fondamentali sono il primo che devono evidentemente continuare gli accordi con la medicina generale senza dei quali non si può andare da nessuna parte in termini di qualità dell'assistenza offerta e di contenimento dei costi quindi il rapporto costo efficace è assolutamente importante. Il secondo punto chiave è che evidentemente non possiamo più permetterci il lusso di assistere a una disomogeneità di assistenza come quella che è emersa ma dobbiamo puntare ad una omogeneità assistenziale in termini organizzativi e distributivi soprattutto in questo caso e naturalmente per fare questo abbiamo bisogno di quello che ad oggi non c'è stato ovvero un accordo unico nazionale che coinvolga tutte le farmacie aperte al pubblico e tutto il servizio sanitario nazionale perché si possa ottenere qualcosa di condiviso e di utile per tutta la società.